racconti anche magari da parte di conoscenti, così tutti abbiamo avuto sentore dei problemi che ha causato nelle giovani generazioni questo anno che è appena passato. Diversi studi ci dicono che nelle giovani generazioni sono resi evidenti nell'ultimo anno problemi di diverso tipo, psicologici, sentimenti di frustrazione, di impotenza sicuramente derivanti anche dalla situazione di solitudine. Salve signora Ploners, posso chiedere gentilmente di disattivare i video e l'audio? Ecco, grazie. Ecco, appunto questo ultimo anno ha portato all'emergere sicuramente di tante situazioni sentimenti anche negativi negli studenti delle scuole primarie, secondarie. Ecco, noi quello che cercheremo di fare con l'aiuto appunto della professoressa Brighi e del professor Basso quest'oggi è tentare di capire cosa è stato fatto in questo anno insomma, quali sono le problematiche ovviamente che si sono originate ma anche quali possono essere delle possibili reazioni, insomma cosa è stato fatto per tenere vive le relazioni anche tra i ragazzi e appunto quali risorse, diciamo, questo periodo difficile per tutti ha attivato. Ecco, non rubo altro tempo alla mia breve introduzione comincio chiedendo insomma a voi passiamo magari, partiamo da te Dennis Per onore di cavalleria di solito Ah sì, ci siamo messi d'accordo, lo sanno tutti Ecco, chiedo a voi la vostra esperienza insomma di docenti perché oltre ad essere ricercatori siete anche docenti quindi siete a contatto in una situazione normale con i vostri studenti ecco, come avete trascorso questo anno di didattica a distanza e come l'hanno vissuti i vostri studenti? Diciamo che chiaramente quello che hai detto che ci sono stati problemi è sotto gli occhi di tutti ci sono stati però anche, secondo me, delle cose positive delle introduzioni che ci sono state di innovazioni tecnologiche che ci aspettavano da tanto tempo però il problema è che magari non tutti né i docenti né i studenti hanno preparati né a gestirli dal punto di vista tecnico, tecnologico e anche dal punto di vista emotivo soprattutto anche dal punto di vista emotivo perché chiaramente adesso che stiamo anche ritornando in presenza finta perché è una situazione ibrida e chiaramente insomma si vede la differenza e non la vediamo solamente noi docenti la vedono anche gli studenti quindi come l'abbiamo vissuto? È stata una scoperta è stata una scoperta e come ogni scoperta porta sorprese positive e negative dal mio punto di vista ha portato sorprese più positive che non negative più che altro perché chiaramente chi ha dovuto scontrarsi col problema aveva queste due opportunità o si rimboccano le maniche o altrimenti rimani lì seduto e aspetti come diceva Igor nel famoso film di Ben Brooks Frankenstein Junior e però chi lo conosce sa a cosa mi riferisco Antonella vuoi darci la tua testimonianza? Sì, anch'io ho vissuto appunto le stesse peripezie che hanno vissuto tanti miei colleghi e dall'oggi al domani mi sono trovata ad andare in dad e quasi non ci credevo perché quando è iniziata la prima fase della pandemia l'anno scorso tutti pensavamo che si sarebbe risolta in un mese poco più io avevo lezione a maggio e ho detto vabbè torniamo in presenza e invece mi sono trovata con me tutti a dover imparare a usare questo arnese splendido ma anche terribile da un certo punto di vista che è appunto la piattaforma Teams che ormai è la forma con cui condivido più ore della mia esistenza la seconda casa insomma praticamente la conosciamo tutti ormai ho conosciuto soprattutto gli studenti del primo anno da novembre in poi solo come dei pallini e comunque ho dovuto reinventarmi tutta la modalità di insegnamento e devo dire che appunto da questo punto di vista non è stato solo un problema come al solito dai problemi nascono anche delle opportunità e per me è stata un'opportunità proprio per pensare alla didattica che all'università perlomeno nelle lezioni frontali di solito ha un approccio appunto trasmissivo durante le lezioni frontali abbiamo altri momenti in cui è più operativa la cosa tipo i laboratori o altre esperienze però nelle lezioni frontali di solito è il docente che parla e gli studenti poche volte interagiscono con la DAD mi sono costretta a reinventare una didattica molto più partecipativa non dico flippet classroom però molto più interattiva selezionando filmati selezionando altre modalità e i risultati li sto vedendo certo mi è mancata la relazione con gli studenti per noi è fondamentale noi viviamo di relazioni il nostro lavoro è tutto sulla relazione mi è mancato molto devo dire che sono stata anche molto contenta di essere tornata in aula una settimana fa e far vedere agli studenti che non sono solo un mezzo busto ma c'è anche il resto del corpo perché comunque il corpo è la cosa cioè il contatto il vedere l'integrità dello studente è stata la cosa più bella e che mi è mancata di più in questo periodo io torno a scusate se lo farò più volte chiedo appunto a chi si è collegato di disattivare la telecamera e l'audio che è un elemento di disturbo ecco come abbiamo accennato prima appunto tante situazioni puntano verso appunto un disagio sia docenti diciamo che gli studenti si sono lamentati insomma abbiamo abbiamo presente tutte le scene anche dei ragazzi in strada dei genitori insomma per alcuni diciamo si è trattato di un disagio ovviamente magari quelli dotati di più risorse di un disagio passeggero ma tutto sommato insomma affrontabile per altri invece è stato di tipo insostenibile ecco volevo sapere che tipo di problemi psicologici non so faccio riferimento all'alterazione del ciclo sonno-veglia i comportamenti difficili si sono presentati o sono stati riscontrati più frequentemente dai vostri da voi dai vostri colleghi insomma dalla comunità scientifica a cui vi riferite Antonella vuoi partire tu? Sì parto io parto intanto dicendo che prima di tutto non possiamo parlare di una reazione uniforme per tutti i bambini per tutti i contesti e per tutte le fasi di questa lunga pandemia ci sono degli effetti differenti tra la prima e la seconda fase del lockdown o comunque delle misure di contenimento che abbiamo avuto l'abbiamo visto anche su noi adulti in cui nella prima fase c'era era scattato diciamo una sorta di di gara anche di solidarietà pensando che la cosa sarebbe finita in poco tempo quando poi in autunno avanzato ci siamo ritrovati di nuovo chiusi in casa ci è caduto il mondo addosso complice anche poi il fatto che c'era l'inverno lungo da passare non c'era la prospettiva di un qualcosa che sarebbe finito a breve e anche una maggiore consapevolezza della pericolosità e dell'incertezza del futuro quindi intanto differenzierei su queste due cose e poi comunque ci sono i fattori diciamo di rischio che connotano la storia di ogni individuo di ogni persona di ogni famiglia quindi non è vero che tutti i bambini sono sullo stesso piano ci sono dei bambini che hanno sofferto in maniera molto forte anche più di altri lo stravolgimento diciamo della routine e della mancanza di opportunità di crescita di confronto con gli altri che il covid ci ha imposto questo non lo dico solo io ma ce lo dice anche l'Ocse con una rassegna di studi a livello internazionale che ci fa vedere come appunto alcuni gruppi di bambini sono in situazioni di vulnerabilità maggiore pensiamo per esempio a bimbi che vivono in famiglie monogenitoriali cioè con un solo genitore abbiamo un bambino su sei che vive con un solo genitore e capite che una situazione come questa in cui il covid aggiunge incertezza economica difficoltà nella routine difficoltà nel seguire il bambino per esempio nei compiti a casa è un problema che aumenta lo stress del genitore e del bambino ci sono bambini che vivono situazioni familiari di alta conflittualità tra i coniugi pensiamo bambini che vivono con genitori anche con affido congiunto che però per periodi molto lunghi non hanno potuto vedere uno dei due genitori questo aumenta la sensazione di insicurezza dei bambini e anche di vulnerabilità ci sono bambini che hanno purtroppo situazioni familiari in cui appunto la violenza il maltrattamento da parte di un partner sull'altro è un fenomeno al quale purtroppo assistono e sappiamo che più è basso l'età dei bambini maggiore il rischio che questo si possa verificare quindi abbiamo diciamo delle situazioni che in una situazione di emergenza come quella imposta dalla pandemia hanno creato le condizioni un po' da pentola a pressione dove lo stress familiare può aver raggiunto effettivamente dei livelli tossici e questo chiaramente ha avuto delle ripetuzioni a livelli di stress sulla salute e sullo sviluppo dei bambini in più tra l'altro c'è anche la compromissione se vogliamo di servizi di segnalazione come potrebbero essere per esempio le scuole gli insegnanti che si accorgevano di disagi dei bambini che in questo momento non hanno la possibilità di monitorare la situazione dei bambini pensiamo alle famiglie per esempio anche poi con bambini con disabilità dove la routine educativa della famiglia ma soprattutto del bambino è stata completamente devastata ecco quindi diciamo che questi bambini questi gruppi di bambini sono bambini che hanno avuto veramente una difficoltà ancora maggiore poi chiaramente lo dicevi anche tu prima parlavamo di stress di irritabilità di problemi legati anche all'autolesionismo dipende anche dall'età dei ragazzi da una serie di fattori di vulnerabilità che si accrescono e si infezionano però vorrei anche lasciare la parola a Demis perché se no vado avanti anche un'ora a parlare di queste cose ma guarda che è comunque sempre piacere sentirti anche perché in effetti questo come dire è uno specchio anche secondo me e secondo la ricerca che ho visto veramente fedele a quello che poi si è verificato in Italia e che anche in altri paesi europei non solo a questo però vorrei aggiungere un paio di elementi del fatto che comunque mettendo queste situazioni in gioco ecco che ci sono stati dei circoli viziosi che si sono incistati e dei circoli virtuosi che si sono invece attivati e questo cosa ha fatto se non aumentare le differenze che potevano essere presenti e che magari la scuola tentava di limare però il fatto di mettere in una situazione in cui c'era un minore controllo perché la scuola è un sistema di controllo oltre che un sistema di difesa di protezione e chiaramente insomma questo venendo a mancare o venendo a essere distanziato lasciava la possibilità ai diversi come dire a diverse interpretazioni di poter sfruttare la possibilità della scuola e quindi anche portarsi non solo avanti ma anche più avanti rispetto a quello che magari il docente stava proponendo e altri che invece rimanevano non indietro ma rimanevano proprio con un distacco totale da quello che poteva essere anche la quotidianità precedente alla situazione attuale da fare però un distinguo rispetto ai studenti che in effetti avevano una certa autonomia rispetto a quelli che invece dipendevano maggiormente dai genitori studenti che per esempio adesso parliamo di studenti universitari e qui insomma in effetti chiamo in causa una mia laureanda che con la quale abbiamo condotto uno studio ne ho condotto anche un altro con una collega inglese che però ancora stiamo raccogliendo dati ma con lo studio della collega insomma della studentessa Tilla Schutz in effetti che cosa abbiamo fatto abbiamo chiesto ai studenti universitari di diverse università di dare la loro prospettiva sulla cosiddetta infodemia cioè il divagare o scusate il dilagare di informazioni anche sopra la mia testa che non riesco a gestire quindi una epidemia di informazioni e che quindi insomma a vedere se riuscivano a gestirli o in che modo potevano difendersi e allora da questo punto di vista alcuni vuol dire alcuni dati adesso sono ancora siamo ancora stiamo ancora elaborando però insomma qualcosa possiamo già raccontare per esempio allora adesso non si vede adesso meglio sì c'è bisogno di un refresh anche per questi sistemi informatici allora diciamo che una prima valutazione è quella di considerare per esempio una differenza tra la situazione in cui abbiamo raccolto i dati che era dell'autunno anzi dell'inverno 2020 e 2021 la parte in blu e invece la parte in rosso che era della primavera dove c'era il lockdown allora il primo grafico si rappresenta quanto tempo è stato passato a cercare informazioni a usare in media allora si vede che c'è già un trend positivo nel fatto che tanto quando c'era la pandemia una scala tra meno 2 e più 2 quando c'era la pandemia c'era un livello di più 1 vuol dire che si cercava molto di più rispetto a quello che si faceva prima della pandemia mentre tale valore è diminuito in una situazione quella più recente nel quale ovviamente c'era stata l'apertura dell'estate ma anche come dire non era un lockdown totale e quindi una situazione che va in funzione anche che si adatta all'ambiente e per cosa andavano si in media le persone gli studenti in questo caso allora prevalentemente per situazioni di social contatto prevalentemente in maniera significativa rispetto alle altre due indicazioni che sono per l'uso di divertimento per giochi videogiochi e per cercare informazioni che più o meno sono sullo stesso livello quindi chiaramente Antonella la letta giusta quello che manca di più è il contatto è la relazione e la si ricerca in qualsiasi forma è possibile e se in media è l'unica allora si usano i social media con tutti i pro e i contro che hanno un'altra serie di grafici ci indica quant'è l'impatto sentito della pandemia e c'è qualcuno che lo valutava come maniera positiva o negativa e allora ci sono quelli che appunto lo valutavano negativo sia per tutti i tre grafici in ascissa c'è sempre la stessa valutazione impatto negativo o impatto positivo su cosa? Su la frequenza di lettura delle news cioè quante volte si vanno a leggere le news chi riteneva di avere avuto comunque che la pandemia la riesce a gestire bene va a vedere di più le news rispetto a chi invece pensa di averne un effetto negativo beh scusate un attimo insomma se io vado e so di cercare informazioni di trovarle trovo risposta chi invece pensa che non troverà risposta che troverà confusione alimenta un circolo vizioso che quindi va meno a cercarle e quindi rimane anche meno soddisfatto l'impatto della pandemia in questo caso va a valutare anche il consumo di media che quindi è coerente con questa misura che più senti che è positivo l'impatto che hai avuto più vai comunque più consumi media quindi media sono positivi negativi questo però bisogna valutarlo c'è una domanda particolare che riguarda invece il quanto ti sei focalizzato su compiti universitari e quale relazione è inversa cioè tanto più eri pensi che l'impatto della pandemia abbia avuto qualcosa di positivo tanto meno ti focalizzavi sui compiti universitari su questo bisogna pensarci su questo bisogna ragionare un po' meglio è una prima valutazione bisogna valutare anche le altre misure che possono incidere su questa alta variabilità perché la curva la linea che vedete è verso giù però ci sono grosse variabilità bisogna trovare meglio quali sono i fattori che c'entrano l'ultima serie di dati è vedere appunto dove dove c'erano le differenze tra l'inverno passato questo del 2020-21 e la primavera rispetto al lockdown allora l'impatto è diventato più positivo rispetto allo zero qui la media è comunque più alta quindi vuol dire che si giudica l'impatto della pandemia come più leggero adesso rispetto a quando lo si viveva nella primavera scorsa stessa cosa anche per quanto riguarda il consumo di informazioni che è aumentato sono due misure che abbiamo visto vanno l'una di bracetto all'altra cosa è rimasto invariato il consumo di media rispetto alle informazioni e il tempo passato in università insomma tempo ti devo dire quanto si è dedicati all'università ma c'è una grossa differenza mentre questi sono misure che vanno con un fagiolo che si va ad allargare nella media e poi si restringe alle estremità vuol dire che i dati sono più coerenti qui all'interno della fascia mediana per quanto riguarda invece l'ultimo dato vuol dire che sono grosse variabilità vuol dire che sono distribuiti in maniera quasi quantitivamente uguale quelli che hanno avuto un impatto negativo e un impatto positivo quindi ecco che allora le differenze individuali qui fanno la differenza grazie mi chiedo questa è relativa agli studenti universitari esistono studi del genere progetti di ricerca relativi invece a fasce di età dei ragazzi della scuola primaria o secondaria ci sono stanno emergendo chiaramente delle evidenze in questo senso però appunto nel caso dei dati che ho sotto mano mi riferisco anche quelli di Vicari per esempio presentati recentemente altri ai quali abbiamo contribuito anche noi con uno studio comparativo a livello diciamo di 11 paesi nel mondo in realtà la seconda fase segna un peggioramento nelle condizioni della salute del benessere psicologico dei bambini e soprattutto degli adolescenti perché un po' lo dicevo prima c'è aumentato lo stress a lungo termine diciamo il periodo di stress sprolongato crea delle situazioni di logoramento anche delle risorse come se l'energia diciamo che avevano accumulato si fosse andata a risperdere insomma non ce ne fosse più immaginate che come se diventasse un qualcosa di tossico quasi questo accumularsi di situazioni stressanti quotidianamente in più c'è stato un altro fatto che nella prima fase del lockdown gli adolescenti eravamo tutti chiusi in casa cioè un grande numero di adulti lavorava da casa nella seconda fase del lockdown o perlomeno da una zona colorata molti genitori si sono trovati ad andare a lavorare quindi molti adolescenti si sono trovati da soli preadolescenti e adolescenti questa per me è una fase di grandissima vulnerabilità in cui non sono cioè da una parte cercano la solitudine perché è una fase di individuazione di distanziamento anche dai genitori ma è anche una fase di estrema fragilità perché viene a mancare comunque quel riferimento al gruppo dei pari che in qualche modo sostituisce la famiglia come riferimento valoriale come riferimento sul quale confrontarsi ecco allora viene a mancare il genitore da contrastare viene a mancare i pari con cui confrontarsi accresce moltissimo il senso di solitudine cioè vengono a mancare poi tutte quelle routine di socializzazione che permettono all'adolescente di costruirsi una vita più consone ai propri interessi allora in questo caso si è visto per esempio Vicare riportava un 30% di casi di autolesionismo in più rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso dal suo osservatorio di neuropsichiatra infantile al bambino Gesù di Roma cioè sono dati che per me sono estremamente allarmanti e quello che tra l'altro ci segnalano questi dati è che non sono solo bambini o ragazzini a rischio come dicevamo prima ma anche ragazzini che vengono da contesti apparentemente normali dove non ci sono evidenti fattori di rischio allora qui c'è qualche cosa che è proprio sostanziale con sostanziale con questo tipo di situazione particolare è veramente una situazione per la quale nessuno era preparato noi per primi come adulti immaginiamoci degli adolescenti che non hanno mai avuto di fronte delle situazioni di privazione del futuro della progettualità come in questa fase cioè erano centinaia qualche oddio quasi cent'anni che non avevamo dubbi su come sarebbe stato il futuro prossimo venturo in realtà siamo ancora nelle condizioni che non sappiamo se possiamo prenotare la vacanza per dire immaginando anche un giovane adulto o comunque un adolescente che cerca di esplorare le possibilità del proprio futuro e di fronte a una nebbia fitta perché veramente c'è una nebbia totale dall'immediato al futuro più prospettico io penso che il disagio sia anche una risposta comprensibile onestamente cioè quasi appunto come dire strutturale in un momento come questo sono anche fiduciosa del fatto che comunque quando la vita riprenderà gradualmente o quant'altro i ragazzi si riprenderanno velocemente i propri spazi e avranno anche l'energia più forte un po' come è successo ai nostri nonni forse dopo la guerra c'è stato un boom un'esplosione di vitalità spero che sia così e spero anche che noi saremo in grado di accompagnarli come adulti sostenendo la loro progettualità però in questo momento siamo diciamo un po' nelle sabbie mobili insomma tu dammi se vuoi aggiungere qualcosa o perché mi è venuto in mente adesso rifacendoci appunto al tema del disagio della solitudine Antonella sei posso sicuramente definirti una grandissima esperta una delle più grandi esperte in Italia del tema del bullismo cyberbullismo è un tema che tu hai studiato ecco tema del bullismo e della violenza quale effetto ha avuto la pandemia su queste tematiche e uno dice vabbè a scuola non ci si va ci sono meno problemi in realtà probabilmente le cose non stanno in questo modo no effettivamente i problemi ci sono e come la dieta digitale dei nostri ragazzi è cresciuta in maniera esponenziale chiaramente anche diciamo per dovere c'è stata ovviamente con questa esposizione crescente ai digital device che servono comunque a mantenere il contatto comunque quel minimo di contatto con il proprio ambiente relazionale con i pari ma anche con gli insegnanti con la scuola e per fortuna che ce l'abbiamo diciamo che però questo ha portato anche una crescente esposizione ai rischi per i bambini cioè a rischi di contenuto per esempio perché i bambini hanno avuto più possibilità di navigare da soli e di imbattersi per esempio in contenuti non adatti in hate speech video oppure giochi o anche canzoni sentivo un ritorno di voce con un contenuto non appropriato al loro livello di età pensate anche solo ai pop up di pubblicità pornografiche pensando un bambino magari di 6-7 anni che cerca di guardare magari dei giochi educativi nel computer se non stiamo attenti c'è veramente il rischio che questa cosa si possa realizzare ci sono stati episodi di disinformazione anche quindi i bambini ma anche gli adolescenti ma anche gli adulti non sono in grado spesso di capire l'attendibilità delle fonti e quindi proprio anche per la conformazione dei social stessi c'è una sorta di eco che tende a far sì che la persona si dia sempre più ragione in alcune posizioni estremizzando poi le posizioni e poi ci sono stati appunto rischi in condotte che hanno portato al contatto tra i pari per esempio appunto il World Childhood Foundation nel 2020 ci ha fatto vedere che c'è stato proprio un aumento esponenziale dei casi di cyberbullismo e anche di cyberbullismo legato diciamo successivo a sexting sapete il sexting è lo scambio di immagini a sfondo intimo sessuale da persone consensienti che di per sé non ha niente di negativo è anche una forma che gli adolescenti hanno utilizzato per esplorare la sessualità in tempi di mancanza del contatto corporeo il problema è quando poi questo contenuto invece viene carpito in maniera diciamo negativa e malevola e viene diffuso magari al di fuori delle due persone direttamente interessate o addirittura ha dato luogo a fenomeni di revenge porn anche tra adolescenti ci sono stati poi anche casi di adescamento online o comunque forme di grooming da parte di adulti malintenzionati con l'intento appunto di carpire la buona fede di bambini e di bambine per farsi cedere immagini a contenuto sessuale in genere abbiamo avuto purtroppo maggiori rischi per la privacy in generale le piattaforme educative stesse che abbiamo utilizzato spesso non hanno garantito la privacy necessaria per la salvaguardia dei dati personali delle informazioni personali quindi anche questo è stato tutta una serie di situazioni che hanno chiaramente accresciuto la possibilità di rischio uno tra tutti diciamo il tempo maggiore passato online chiaramente lo sappiamo un po' da tutte le ricerche maggiore il tempo che si passa online maggiori sono le probabilità di incorrere in rischi di questo tipo anche se da solo il tempo non basta dipende poi dopo anche da che cosa fa chiaramente come diceva poi prima Demis il ragazzino la ragazzina e siccome diciamo i social sono diventati il surrogato del contatto in questo contatto possiamo trovare persone che in realtà non hanno intenzioni appunto positive come invece pensiamo e tenete presente che i social tra l'altro cioè i social tutta la comunicazione online favorisce la disinibizione dei comportamenti quindi favorisce anche il dare fiducia a un estraneo basta che magari si presenti in maniera ressecurante cioè c'è tutta una serie di cose che tra l'altro hanno cresciuto il rischio proprio perché l'esposizione a questo tipo di contenuti è aumentata in una fase in cui i fattori di protezione ancora non sono ben consolidati sto parlando di identità di consapevolezza di responsabilità di saper prendere delle decisioni in maniera consapevole sto parlando di fiducia anche nelle relazioni con i genitori con gli insegnanti con i compagni qualora appunto possa insorgere un problema quindi insomma più si abbassa l'età più abbiamo il rischio maggiore del fatto che ancora non ci sono dei fattori di protezione che riescono a intervenire per compensare il rischio si abbassa l'età nel senso dipende fino a che età nel senso che se si passa poi andando in giù la pubertà cioè si arriva ai 10, 9, 8 anni ci sono diverse tipologie e diverse forme però ecco che allora il problema dell'identità magari si pone per preadolescenti in pubertà in adolescenza dove lì il problema dell'identità è quello centrale rispetto magari insomma a un bambino di scuola primaria dove i problemi invece sono legati all'esposizione di contenuti quindi anche lo sviluppo di strutture conoscitive del mondo più che non della propria definitoria della propria identità però questo non vuol dire che allora è pericolo un contenuto sessualmente non adatto allora va bene per un bambino in scuola primaria non per uno della scuola superiore no comunque non va bene perché come diceva Antonella i fattori protezione mancano in questa situazione e la relazione fatta attraverso un social sicuramente è un surrogato però chiaramente nessuno lo scambierebbe per una relazione vera e propria però qualcuno sì invece e dobbiamo rendersi partire da questo punto di vista che quando non c'è la possibilità di avere un confronto con una relazione vera e propria quello diventa la realtà ecco che allora per esempio nelle chat ci sono dei suicidi proprio fisici perché perché c'è l'altra persona che mi ha tradito ma è una chat non ti ha tradito in realtà o la realtà cos'è è lì che si forma un problema che non si riesce a distinguere più qual è la realtà da una realtà che però è alternativa è momentanea è un qualcosa che premio pulsante e sparisce adesso provate a premere un pulsante e far sparire una persona in realtà è ovvio che non funziona ma lo sappiamo tutti ma nel web è possibile ecco ci avete dipinto una realtà poco poco rassicurante esistono cioè si possono erigire dei presidi a difesa dei ragazzi dei giovani sia dalla parte della scuola che dalla parte della famiglia quali possono essere degli agini insomma a dilagare la violenza o appunto del bullismo online Allora visto il silenzio insomma a questo punto vado io insomma visto che stavo continuando su questo in effetti bisogna non è che bisogna cominciare adesso a pensarci ci si pensava già anche prima quindi allora si sfruttano quelle abilità che comunque si aveva già si avevano già si continua a lavorarci c'è qualcosa in più c'è bisogno di qualcosa in più in questo momento sì c'è bisogno del maggiore impegno ma l'impegno non lo si aveva anche prima no prima c'era chi ci metteva impegno chi ci metteva meno ecco le distanze si sono sono aumentate e allora ecco che bisogna trovare in questo momento un modo per aumentare l'impegno di chi l'impegno non ce lo sta mettendo di chi l'ha perso ecco allora in presidi ci sono gli insegnanti fanno anche di più di quello che devono ne ho sentite molte di situazioni in quali gli insegnanti di scuola primaria e scuola secondaria primo e secondo grado davano dei contributi bellissimi agli studenti davano hanno cambiato modalità stavano facendo dei lavori fantastici certo adesso non diciamo che tutti facevano questo lavoro però insomma qualcuno almeno lo faceva ma la reazione qual è stata di una classe di 20 5 o 6 seguivano e anzi caspita se ne profittavano di questo lavoro altri invece vi vacchiavano e altri invece spegnevano non si facevano trovare il docente li cercava telefonava cercava di sincerarci di che cosa poteva essere successo e non rispondevano allora lì non è solamente un problema legato al materiale o al lavoro del docente è legato anche al lavoro della famiglia al lavoro anche sociale i media in questo caso devono funzionare da presidio non può essere solamente la famiglia o il docente ci deve essere tutta una rete che lavora in questa direzione del fatto che adesso ti stai giocando una fetta del presente non è il futuro che ti stai giocando è il presente adesso stai vivendo male o bene adesso stai sfruttando l'opportunità non devi cominciare a partire da a pensare da quando questa pandemia non ci sarà più chissà quando non ci sarà più parti già adesso fa il tuo dovere cioè lavora per te stesso e i media su questo che messaggi ci stanno passando e poi Antonella casomai aggiunge gli altri meccanismi che sono in funzione da parte delle istituzioni visto che comunque lei collabora certamente con una istituzione che è l'associazione italiana di psicologia e quindi insomma a questo punto passo a lei il pallone cioè la risposta è molto complessa io diciamo che forse direi che tutto il mondo adulto deve recuperare la funzione educativa che in qualche modo ha perso o perlomeno deve mettere in primo piano l'emergenza educativa in senso lato e creare un'alleanza appunto come diceva Demis tra istituzioni diverse cioè non solo la famiglia perché da sola non ce la fa non solo la scuola perché la scuola ovviamente è un contesto particolare importantissimo ma da solo non può bastare ma sto parlando anche di associazioni sto parlando di reti di volontariato sto parlando di istituzioni a livello nazionale che insieme devono mettere veramente al centro l'emergenza educativa soprattutto per recuperare il gap di quei bambini di cui parlavamo prima tanti bambini rischiano di venire espulsi dal processo e rischiano di utilizzare i media tra l'altro in un modo che appunto invece di contribuire a colmare quel gap educativo invece di spingere sempre più lontano da un processo di scoperta delle proprie potenzialità di scoperta di passioni di interessi ma li porta verso magari un'acquisizione di identità fasulle o sterili pensate non so al ruolo dei vari influencer o del ruolo di delle varie sfide assolutamente devastanti su TikTok sono quelli dei tentativi comunque di cercare un'omologazione un senso di appartenenza a un qualche gruppo leggendoli in positivo leggendoli in negativo vediamo che si sta costruendo un'identità estremamente fragile estremamente vuota allora come facciamo ad aiutare questi bambini questi ragazzini tra l'altro diciamo il discorso è estremamente complesso secondo me è un discorso che parte dalla famiglia parte dal dialogo parte da un'educazione alle emozioni parte dal fatto di offrire a loro veramente delle esperienze significative nelle quali mettersi alla prova parte anche dal fatto di saper dare delle regole noi come adulti nell'uso per esempio dei social cosa molto semplice semplice da dire ma difficile da fare consiste anche nel sapere essere degli adulti responsabili in questo senso pensate all'esempio che stiamo dando ai bambini noi stessi noi siamo anche quelli che fanno un uso compulsivo della dieta digitale noi adulti quindi i bambini imparano anche quelli piccolissimi quando abbiamo un bambino che rompe le scatole e fa un capriccio alzi la mano che non gli ha mai dato il cellulare per metterlo un attimo tranquillo io sì perché non c'erano i cellulari quando mio figlio era piccolo mio figlio è grande ha 25 anni quindi diciamo ho scampato quella fase lì però il problema di una relazione anche con i genitori tra bambini e i genitori mediata dai device tecnologici è un problema veramente notevole perché vuol dire che mancano tutta una serie di riferimenti emotivi che il bambino può cogliere sul viso del genitore un'interpretazione delle situazioni dare una valenza emotiva a una cosa che stanno vivendo insieme cioè è una cosa incredibile questa noi non ci stiamo rendendo conto di quanti passaggi stiamo saltando per poi accorgersi magari a 14-15 anni che abbiamo di fronte degli adolescenti che non riescono a parlare con noi e noi tantomeno riusciamo a parlare con loro allora sì è vero ci vuole una rete ma ci vuole anche un sano lavoro quotidiano di costruzione di un dialogo di un dialogo che sia significativo noi genitori ma anche a scuola è chiaro che non può essere lo stesso dialogo che un bambino ha con i propri genitori il dialogo che hai con l'insegnante ma un insegnante che ti propone dei contenuti che ti stimolano che ti fanno appassionare le cose che ti fanno sorgere delle domande che ti fanno venire voglia di andare a casa di cercare magari anche online delle informazioni un insegnante così io veramente per me è una cometa nel percorso di crescita di un bambino o di una bambina in termini di scoperta di potenzialità ma questi sono gli antidoti a una identità fragile e fasulla se vogliamo che invece i ragazzini trovano come proposta online cioè bisogna costruire delle personalità solide e di persone che hanno un'autostima consapevole sapendo benissimo quali sono i limiti ma anche i pregi che ognuno di noi ha ed è questo un lavoro complicato e non si fa in un giorno non è solo un problema di covid o non covid diciamo che forse il covid ha svelato il fatto che noi abbiamo perso di vista un po' di queste priorità secondo me se posso aggiungere le istituzioni in questo caso giocano un ruolo che è non solamente di giudice ma anche di esecutore adesso prendiamo l'esempio della scuola e che ci sono degli insegnanti dei docenti che funzionano e altri un po' meno ma allora le istituzioni se ne vengono a conoscenza di queste situazioni e vuoi che non ne vengono a conoscenza non dico di punire perché è una cosa che non va mai fatta ma di incentivare coloro che stanno lavorando bene non può essere un'opportunità magari insomma di prendere che ne so dargli un incentivo a questa forma di un non riconoscimento economico se non ci sono soldi ma almeno un riconoscimento pubblico oppure dei materiali oppure fammi una domanda dimmi se ti posso aiutare in qualche modo cioè allora proviamo a davvero insomma a rendere possibile anche dal punto di vista della gestione del bene pubblico un premio come dire un avvantaggio per coloro che comunque hanno mostrato di contribuire al bene pubblico grazie speriamo insomma se c'è qualcuno nelle istituzioni qua in ascolto insomma che prenda questo suggerimento ecco invito chi è collegato e fosse interessato e volesse fare una domanda insomma può scrivere nella chat e poi appunto leggerò io le domande ai nostri relatori saluto il preside della facoltà che si è collegato vado avanti intanto che aspettiamo se appunto non arrivano domande ne ho io da farvi ancora ecco avete parlato giustamente dell'importantissima funzione formativa e relazionale della scuola ecco quest'anno è stato l'anno della DAD insomma tutti abbiamo ormai tutti conoscono questo acronimo ecco cosa ha funzionato cosa ha portato alla scuola e cosa si può mantenere anche di questa modalità insomma cosa ci ha portato cosa ci ha insegnato in che modo se lo ha fatto ha migliorato la proposta formativa della scuola tante domande mi ricordo me ne rendo conto ma non so se volete vuoi partire tu Antonella? si va bene allora la DAD questa tanto vituperata DAD allora da una parte per fortuna che c'è stata e c'è stata questa risposta anche abbastanza massiccia in termini di investimenti per cercare di colmare un ritardo che la nostra scuola poteva avere rispetto ad alcuni paesi europei più avanzati in questo senso noi rispetto alla media oxe eravamo un pochino più eravamo un po' al di sotto come possibilità prima della pandemia di inserire le ICT nella normale routine scolastica eravamo intorno al 47% degli insegnanti intervistati mentre la media europea era circa il 52% c'era stato già un grande sforzo da parte del ministero per colmare questo tipo di gap con l'agenda digitale del MIUR che era già stata implementata da anni però diciamo che l'avvento del covid ha veramente come dire reso estremamente evidente la grossa disparità di velocità nelle scuole del nord e del sud d'Italia per esempio dove al nord avevamo già una buona digitalizzazione delle scuole una presenza di device abbastanza pervasiva anche nelle famiglie mentre al sud si sono veramente trovati ad improvvisarsi con modalità anche abbastanza estemporanee a parte chiaramente ripeto alcuni fortunatamente alcuni diciamo che da una parte la DAD ha accelerato dei percorsi di rinnovamento della scuola e ha suggerito anche quando appunto già la scuola aveva investito sull'innovazione della didattica delle modalità collaborative tra gli studenti molto più partecipative cioè la DAD che ha funzionato non è la DAD dove sostanzialmente lo schermo ha sostituito la presenza della lezione frontale come dicevo prima la DAD che ha funzionato è quella che ha permesso il collaborative learning che ha permesso la Flipped Classroom e tutte queste attività o il peer tutoring o comunque delle attività in ogni caso molto più partecipative da parte degli studenti e gli studenti in questo senso sono stati a volte anche dei motori di cambiamento perché sono anche più bravi di noi io tante volte anche quando faccio lezione io magari mi impappino a un certo punto ma ci sono i miei studenti che mi dicono prof siamo nella breakout rooms ah ok spiegatemi come si fa allora in questo senso abbiamo anche una sorta di capovolgimento della gerarchia che fa anche bene a volte non sempre ma in questo caso può essere utile perché dà centralità di nuovo le competenze dei ragazzi e li rende più partecipi del proprio percorso di apprendimento poi la DAD permette anche di differenziare moltissimo i percorsi e i contenuti di apprendimento in funzione degli interessi quindi diciamo che è sicuramente uno strumento di arricchimento dell'esperienza scolastica l'altro l'aspetto negativo chiaramente è che la DAD però non è stata per tutti come dicevo prima e soprattutto i bambini che avevano più necessità di essere seguiti durante questa fase di crisi parlo con bambini con bisogni educativi speciali non avevano per motivi legati alla loro patologia o per motivi legati a condizioni contingenti non hanno avuto accesso di fatto alla DAD e quindi la DAD è diventata in questo senso un ulteriore fattore che ha contribuito diciamo la marginalizzazione di gruppi di bambini e invece avevano estremamente bisogno di essere coinvolti l'altro aspetto mettiamolo in positivo è stato che la DAD comunque ha in qualche modo riportato nelle famiglie il tema della scuola nel bene e nel male cioè c'è stato un dibattito sulla scuola c'è stato un coinvolgimento in primo piano in prima linea volenti o non volenti dei genitori nelle attività dei figli quindi magari i genitori che prima non guardavano neanche mai il diario dei bambini sono trovati a dover sostituire gli insegnanti quindi forse c'è stato un avvicinamento un po' anche tra i due mondi con tutti i conflitti del caso perché non è stata una cosa semplice però forse ha creato la possibilità di un dialogo maggiore tra la scuola e la famiglia la voglio vedere in positivo ecco in questo senso quindi sì devo dire che è stata un'esperienza nuova coinvolgente barra sconvolgente ecco e non vorrei che comunque questo penso che comunque non verrà sprecato tutto questo investimento di tempo di risorse di competenze che sono state acquisite in questo anno di date io personalmente spero di non perderla questa cosa sì sostanzialmente insomma a parte non voglio ripetere quello che ha già detto Antonella casomai aggiungo sul fatto che comunque ha permesso non solamente alle famiglie agli studenti ma anche ai docenti alle istituzioni di valutare delle necessità di sviluppo perché chiaramente se c'era un certo slogan che parlava dei tre i magari su una ci sia Raffa con un po' di pronuncia su un'altra meglio sa perdere ma l'internet fornire la banda su questo siamo ancora indietro perché lì è un grosso divario tra nord e sud poi però l'internet lo devi riempire allora è lì che poi si gioca la partita e su questo stiamo imparando e lì scondivido con Antonella il fatto che ci sono delle buone pratiche che sono emerse grazie a questa opportunità e che quindi consideriamo questa opportunità come un passo avanti però poi il passo avanti dopo non voglio che finita questa necessità se ne facciano due indietro il corpo docente diciamo in questo periodo ha grandissima parte del corpo docente ha anche appunto con tutte le difficoltà del caso ha fatto un lavoro eccezionale che ha fatto di necessità virtù si è industriato anche per apprendere nuove tecnologie anche appunto dall'oggi al domani utilizzarle in che modo la DAD poi è entrata anche nella formazione universitaria dei docenti è entrata nelle nuove eleve ha lasciato un segno anche in questo senso noi avevamo parlo adesso in questo caso come responsabile di scienze della formazione primaria italiana noi abbiamo degli insegnamenti di tecnologie per l'educazione che erano già presenti da anni in facoltà abbiamo dei laboratori di tecnologie per l'inclusione per esempio e quindi chiaramente questo tema delle tecnologie per la didattica era già presente nella formazione dei futuri insegnanti è chiaro che adesso è diventato ancora più pressante è assolutamente imprescindibile e anzi in questo senso forse abbiamo dovuto stimolare un po' le nostre studentesse anche ad apprezzare il fatto di poter fare delle esperienze dirette attraverso il tirocinio affiancando degli insegnanti che facevano la DAD perché per loro la scuola vera è invece quando sei solo in classe abbiamo fatto un po' fatica a far capire che effettivamente anche affiancare un docente che sta facendo DAD è comunque un'esperienza formativa importantissima anche perché credo che purtroppo o non lo so per fortuna comunque questa forma di alcune esperienze che abbiamo fatto è giusto che non vengano perse nella scuola futura anche quando si rientrerà a 100% la nostra vita normale se di normalità possiamo parlare forse era già normale prima non lo so però sì sono convinta che sia comunque una cosa importante l'altro aspetto secondo me che prima non ho detto ma comunque è un po' il fil rouge tutto quello che abbiamo detto fino adesso è che la DAD al di là dei contenuti e del modo in cui noi li eroghiamo non può prescindere comunque dal cercare delle forme di coltivare delle forme di relazione è vero che non è una relazione faccia a faccia è vero che non ci possiamo toccare è vero che non possiamo fare tante cose che noi facciamo diciamo quando siamo uno di fronte all'altro però il fatto di essere in DAD non ci può esimere dal cercare una relazione con ogni singolo studente al di là dei tecnicismi delle piattaforme di qualsiasi cosa se proprio non ci funziona niente non siamo capaci di fare niente comunque telefoniamo facciamoci sentire perché alla base di tutto c'è comunque la necessità di curare e coltivare la relazione che abbiamo con i nostri studenti la DAD è un mezzo importante ma non può essere il contenuto della scuola così come anche nella scuola tradizionale diciamo non era tutto lì non è tutto nel curriculum il curriculum passa dalle relazioni lo sapete questo ormai è il mio mantra ci credo profondamente Demis intanto ho visto che ci vuole far vedere qualcosa un piccolo appasso su Nature riguardo al fatto che c'è un certo riconoscimento che il pandemic burnout sta crescendo nell'accademia accademia intesa non solamente universitaria ma in generale insomma sulle diverse manifestazioni cioè le diverse possibilità di insegnamento quindi la DAD contribuisce da un certo punto di vista a migliorare ma certamente contribuisce anche allo stress è aumentato a detta di tutti il carico di lavoro che un docente ha nel gestire la classe online gestire appuntamenti nel dividersi tra il creare il lavoro e poi tutti gli altri lavori che devono essere comunque svolti quando prima sfruttavi la pausa tra le lezioni per rispondere a dei dubbi dei studenti adesso arrivano molte più email a cui devo rispondere singolarmente quindi chiaramente ci sono delle opportunità e ci sono dei metodi che funzionano oppure no adesso per esempio guardate io ho la possibilità di interagire con una pagina internet prima avete visto dalle slide è una modalità che ho adottato nelle mie lezioni l'ho vista utilizzare da un collega durante un convegno ho detto ma che bello aspetta mo che lo includo e vediamo se funziona e quindi adesso insomma per esempio state vedendo ha una buona definizione come se avessi non un proiettore come se avessi una fotografia qui dietro ma posso andare a contare quanti sono i vari fiammiferi per cui ve li indico anche e una modalità di fare una modalità di fare lezioni come questa sicuramente è più inclusivo rispetto ad avere una persona che è su un quadrato nell'angolo con delle slide che sono dall'altro che chiaramente sono vissute come meno vuol dire meno presenti quindi ecco che allora ci sono possibilità che sono nate dalla necessità e come tutte le cose quindi non fa eccezione il fatto che siamo in una pandemia ma fa parte della vita e da questo secondo me bisogna considerare anche che nella vita dopo che continua non è che si chiude una parentesi ma si continua ci stiamo piano piano avvicinando al termine di questo incontro un'altra domanda che vorrei farvi è recentemente insomma a intervalli regolari escono proposte insomma appelli sul recupero del gap formativo che si sarebbe originato in questo ultimo anno quindi scuola nei mesi estivi cosa ne pensate? I mesi estivi sono desloquenti i mesi estivi aspetta un secondo fammi fare un attimo un calcolo i studenti hanno cominciato a scuola allo scorso settembre che erano in classe non in classe non si sa bene cosa dovevano fare la settimana successiva con questa spanda di Damocle di sapere se erano aperti chiusi o con questa spada che ti entrava nel naso per farti questa questa valutazione sia il virus oppure no poi siamo in attesa del virus dell'antivirus arriva o non arriva allora adesso quanto è il livello di stress? secondo voi è alto o è basso? e se già è alto voi continuate a tenere la scuola aperta per tenere un livello di stress che aumenta ancora di più oppure volete un attimo chiuderla quando era necessario quando era previsto almeno quello seguire quello che hai previsto in modo tale da poter poi riposarsi e aspettare che magari ci siano delle vaccinazioni che vengono effettuate e valutare se ci sono delle contremisure che vengono adottate e ricominciare a settembre e vediamo se magari è necessario cambiare qualcosa a partire da settembre con un nuovo anno accademico cambiare le modalità come diceva Antonella anche in un articolo recente però insomma non fare in modo che io adesso perda la possibilità di ricaricare le pile Antonella? Io ripreso un accordo con Demis ma comunque diciamo che forse la domanda non è cioè per riaprire la scuola ma perché cioè qual è l'obiettivo? Allora l'obiettivo è recuperare delle conoscenze che non sono state trasmesse e quindi dobbiamo riempire i nostri bambini di contenuti perché li hanno persi nel corso del tempo perché dobbiamo verificare delle competenze che invece pensiamo che siano state acquisite sono in grado allora la domanda che segue è sono in grado di reggere una sessione di valutazione dopo questo periodo così comunque complicato per tutti quanti vogliamo davvero che la scuola sia un prolungamento di un'attività difficile pesante come l'hanno vissuta in questo periodo allora per me il punto è appunto qual è il senso eventualmente di prolungare l'esperienza scolastica perché se deve essere un tornare in classe per recuperare delle ore che sono mancate allora no se dobbiamo invece se possiamo pensare a delle occasioni in cui recuperiamo la socialità recuperiamo la possibilità di fare insieme delle esperienze belle magari all'aperto complice alla bella stagione oppure appunto esperienze nel concreto recuperando la manualità il corpo cosa che ci è mancata tantissimo quindi magari anche fuori dalle aule non necessariamente seduti a un banco allora se è con questa finalità ci posso stare cioè per me può avere un senso perché la scuola per me è fondamentalmente un luogo di relazioni non è semplicemente o comunque non è solo un luogo in cui si passano dei contenuti allora se vogliamo recuperare questo aspetto possiamo pensare delle modalità anche di incontro di riorganizzazione della scuola in maniera forse più innovativa rispetto al fatto appunto semplicemente di aprire un portone di farli stare a giugno luglio a scuola diversamente mi sembra un accanimento privo di senso onestamente non vedo anche perché vabbè considerate anche i fattori tanti altri fattori anche solo il fattore climatico molte scuole non hanno il condizionamento l'area condizionata per esempio e non so neanche se potremmo usare l'area condizionata qualora ci sia per questioni appunto di circolazione del virus ora noi siamo in Alto Adige ma immaginatevi una scuola a Palermo a Catania o cose di questo tipo c'è anche un problema proprio di di struttura ci sono fattori strutturali non solo psicologici insomma sì no no non è semplicemente una cosa io li farei entrare veramente questi i signori insomma che fanno questo tipo di proposte li farei vedere qual è la vita quali sono le condizioni anche di alcuni edifici scolastici in Italia non sono tutte quelle scuole belle che sono fortunatamente a cui mi avete abituato in Alto Adige non è così nel resto dell'Italia quindi insomma sì perché dove come e soprattutto qual è lo scopo che ci vogliamo prefiggere io vedo molto bene per esempio per colmare delle carenze dei gruppi dei piccoli gruppi in cui si fa un tutoraggio specifico per bambini che devono recuperare dei percorsi di apprendimento ma questo vuol dire per esempio fare una valutazione breve ma diciamo formativa per cercare di capire quali sono effettivamente i gap che possono creare delle difficoltà a settembre quando poi riprenderemo ma dei piccoli gruppi che lavorano insieme magari a livelli differenziati con degli stimoli differenziati sicuramente non la classe intera che sta lì a giugno e luglio questo proprio mi sembra una una soluzione che non risolve niente anzi crea disagio ecco siamo ormai appunto al termine di quest'ora che ci siamo dati ho letto adesso vediamo se riesco a condividerla sullo schermo l'ultima domanda che vi faccio così è proprio a bruciapelo vediamo se riesco a ecco si vede sì la pagina ecco una notizia proprio di poche un'oretta fa sul corriere psicologi gratis per i bambini in Francia e in Italia cosa si fa chiedo chiedo a voi insomma come 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 valutate una notizia del genere se appunto c'è diciamo bisogno di un maggior intervento anche in questo senso da parte delle istituzioni insomma so che in Francia c'è sta l'articolo lo spiega insomma i bambini le famiglie hanno diritto a dieci sedute gratis a un borso per dieci sedute gratis secondo uno psicologo per i bambini appunto che hanno risentito maggiormente delle conseguenze del covid-19 dammi se vai te vado io beh diciamo che insomma io posso introdurre una prospettiva poi insomma te che ci lavori con l'IP invece magari confermi alcune direzioni psicologo è un bel sogno sarebbe sarebbe lavoro per tutti quello che si diceva benessere per tutti risolverebbe tutti i problemi del mondo però sarebbe una toppa che non so se neanche funzionerebbe cioè chiaramente lo psicologo può aiutare ma se è una tantum se è una cosa in cui si considera che dallo psicologo ci vai se hai un interesse a cambiare qualcosa non perché uno ti ci ha mandato altrimenti rimani com'eri quando sei entrato quindi metterlo anche a disposizione delle risorse avendo ipotizzando di avere i soldi chiaramente non è quella la soluzione per impegnarli bene quindi metterlo a disposizione quando si parla di benessere non di riparare dei problemi allora quello è un altro discorso per cui allora se tu metti un psicologo che è un punto di riferimento nel caso tu abbia un dubbio non dico che te lo risolve ma ti dà le possibilità per poi farti ragionare per risolverlo allora stiamo parlando di benessere allora mi trovi 100% d'accordo ma mettere come dire mettere soldi per una figura che ti risolve i problemi che ti hai creato no Antonella c'è stato qualche giorno fa proprio un incontro organizzato dall'Associazione Italiana di Psicologia proprio sulla figura dello psicologo scolastico in Italia noi ancora non ce l'abbiamo questa figura diciamo incardinata nelle scuole e in realtà dovrebbe essere una risposta a livello sistemico proprio per capire l'importanza anche di avere una figura come questa capace di leggere la complessità del contesto relazionale scolastico e questo per me è un obiettivo importante diciamo che la finalità mi sembra dello psicologo nel modello francese è più di tipo appunto riparativo di un problema cioè una risposta un problema concepito come un problema individuale questa prospettiva non mi trova sempre d'accordo anche perché appunto sappiamo che molto spesso il problema del bambino è un problema diciamo è la spia di un sistema che non ha funzionato quindi da una parte vorrei evitare la medicalizzazione di un disagio che in certe fasi della crescita comunque è fisiologico e comunque è diciamo forse c'è bisogno di interventi più psicoeducativi che non clinici per aiutare magari una famiglia a superare un momento di crisi cambiando le modalità di dialogo con i bambini le regole cose di questo tipo piuttosto che una psicoterapia poi però ci sono dei casi in cui invece effettivamente c'è bisogno di cure selettive diciamo di un percorso terapeutico di fronte a un malessere conclamato allora lì è giusto anche dare la possibilità alle famiglie di accedere a un tipo di risorsa come questa perché veramente ci vuole una professionalità che è specifica dello psicologo e non può essere assunta da altre persone quindi in questo senso si di risorse di risorse di risorse di risorse Grazie a tutti